Io non ero appassionata di dolci e non ero brava a cucinarli. Dopo i più grandi vasi c'ere, io sono un'appassionata di dolci, ma non li so cucinare. Sì, al tiramisù, non rinuncerei mai ad una fetta di tiramisù. Perché è un programma nuovo, innovativo, ha un linguaggio completamente diverso dagli altri, perché si vedono dieci ragazzi che sanno fare qualcosa, dieci italiani, sono uno dei concorrenti estranieri, che sono già dei professionisti, quindi sono già ragazzi che quando avevano 13-14 anni avevano una passione, l'hanno mandato avanti, hanno studiato tanto, continuano a farlo. Abbiamo tre giudici che sono delle eccellenze italiane alla pasticceria, per non parlare poi di Gino Massari che è in esterna. Quindi il programma va visto se volete vedere un talent di alta pasticceria, se volete divertirvi, commuovervi e anche vedere qualcosa di diverso. Non è un programma di cucina. In esterna, i ragazzi saranno divisi in coppia e c'è della sadicità, si può dire? Sì, è un po' sadici perché magari le coppie formate, insomma, tra di loro non vanno d'accordo, magari c'è quello più bravo e quindi vengono però giudicati insieme da Gino Massari. Non vorrei mai essere giudicata per un lavoro che ha fatto un altro. TV Zoom, un bacio, vi leggo, in boccone al lupo, a più grande pasticcere.